Buona giornata, buona mattinata, ben ritrovati carissimi telespettatori di Fano TV. Siamo in diretta e sono le 7.30 di oggi, giovedì 9 giugno 2016, anche se come vedremo tra poco, anzi apriamo subito la finestra, lo facciamo, eccolo qua, guardate che bella giornata di sole oggi che abbiamo, in realtà sembra quasi una giornata di novembre se non fosse per la temperatura, per il resto ci sono tutti gli ingredienti. Vedete, qui siamo a Fano, in diretta le immagini che arrivano dal pincio della città della Fortuna, non c'è neanche molto traffico questa mattina, chiaramente non ci sono più le scuole, quindi gli autobus sono diminuiti, è diminuito il caos, a quest'ora sarebbe stato sicuramente più elevato se fosse stata una giornata scolastica. Invece siamo qua al 9 di giugno, torniamo pure in studio, grazie Irene. Bene, allora andiamo a vedere subito il salto del giorno, allora oggi è Sant'Efrem Siro di Acono, il sole è sorto alle 5.25 e tramonterà alle 20.50, le previsioni per oggi, dicevo, sono previsioni con rovescio temporale diffusi, in particolare nel pomeriggio, con accumulate più abbondanti nelle zone interne e nel settore centro-settentrionale della regione, quindi verrebbe da dire il peggio deve ancora arrivare. Le temperature sono in diminuzione nei valori massimi, mentre i venti sono deboli dai quadranti meridionali. Per la giornata di domani ancora attività di rovescio temporale sparsi, nel pomeriggio i fenomeni saranno più probabili nel settore montano e alto collinare della regione, le temperature sono stazionari, i venti sono deboli da settentrione. Per la giornata di sabato 11 giugno ancora cielo parzialmente nuvoloso, con probabili rovescio temporale durante le ore più calde della giornata, per vedere un po' di sole bisognerà probabilmente attendere la giornata di martedì. Insomma, quest'estate ce la fa pesare. Allora, entiamo adesso subito sui quotidiani. Cominciamo dal messaggero. Nuovo ospedale, scelta tra due siti. Ceriscioli restringe le alternative a Fosso Segiore e Muraglia. Bocciata invece definitivamente l'ipotesi di Chiaruccia a Fano. Cerchiamo velocemente soluzioni condivise con i comuni, altrimenti deciderà la regione. Questo è il live motive che si sente ormai dire da tantissimi mesi, ma ormai sappiamo benissimo. I sindaci non vogliono decidere e quindi deciderà la regione. A centro pagina, questa iniziativa singolare del conte Marcucci Pinoli che dice Offro vacanze gratis nel mio albergo alle vittime di ingiustizia. È un'idea appunto del conte. La vedremo, entreremo più nel dettaglio tra un istante. Sul dilitto di Ismaele invece c'è il giallo del patto e delle coltellate. Dopo il faccia a faccia tra Igli e Mario è scontro serrato sulla verità. Su Cordella invece oggi l'imprenditore Fanesa è arrestato per banca rotta fraudolenta. Oggi decide il giudice fallimentare. Una quindicenne invece in bicicletta bloccata pensata in autostrada. La ragazzina che è una brasiliana ospite del padre emigrato nella Riminese voleva visitare le città vicine e ha visto una strada lunga, bella larga, ha detto perché non la prendiamo? E' solo che è un'autostrada e quindi non è certamente la più indicata per la bicicletta. La pagina di Fano invece del messaggero. Ecco la fusione tra le due Aset. La fumata è ancora nera a vuoto tre riunioni consecutive per decidere quale sarà incorporata. La SPA però sembra prevalere sulla holding. I pareri sono contrastanti. Il segretario del PD Ignazio Pucci dice Il nostro partito si è espresso in modo netto. L'operazione deve essere comunque fatta. Per i 5 Stelle invece tanti sono i punti da chiarire. Ansuini con la normativa dice che cambia. E' meglio comunque aspettare ancora un po'. I bimbi in auto senza seggiolino. Un papà finisce in carcere. Questa è la notizia che trovate a fondo pagina. A Fano sul messaggero il molestatore invece delle ragazzine. Lo ricorderete quello che è stato arrestato. Il 45enne è stato arrestato alla stazione ferroviaria di Fano. Dice io sono un artista. Quelle ragazzine erano soltanto le mie fan. Ma quale pedofilo. Io sono un artista di strada e sono un figo. Ero lì che roccheggiavo con la mia chitarra e loro mi hanno guardato. Sono rimaste ammirate dalla mia bellezza. Cordella, il giudice decide il destino delle sue società. Il prossimo faccia a faccia con i magistrati sarà il 16 giugno. Intanto Cordella, l'imprenditore fanese arrestato qualche settimana fa per bancarotta fraudolenta, incassa il primo no alla richiesta di revoca della scarcerazione. La soluzione attesa per oggi respinta intanto la richiesta di scarcerazione. E dunque Stefano Cordella resta in carcere a Villa Fastigi. Sul nuovo ospedale la scelta si riduce a due sole ipotesi. Ceriscioli parla dunque di Fosso Segiore o Muraglia. Sugli altri siti c'è divisione, soluzioni condivise con i comuni. Come abbiamo detto, oppure decide la regione. E poi sulla nuova versione che ha dato Igli Meta, che è difeso da Carlo Taormina, ci sono tante riserve, tanti dubbi. Taormina e Sole, questi due avvocati, abbiamo i riscontri tecnici che dimostrano la verità di Igli. Lotti invece tenta di evitare la premeditazione. Andiamo adesso sulla pagina 3, sulla pagina 35 del messaggero, quella di Pesaro. Tutti al mare partono i bus navetta, al via le quattro linee tra parcheggio e spiagge. Ecco che cosa cambia. Baia Flaminia si potrà sostare invece nell'area di strada tra i due porti. Siamo Pesaro, la lista civica chiede di trasformare Viale della Repubblica a senso unico verso la palla, perché adesso è caotico e pericoloso. Andiamo invece adesso sulla pagina di Fano del Corriere Adriatico. Inaccettabili i diktat, siamo sempre sulla sanità e sull'ospedale, i diktat di una sola parte. Tensioni nel centro-sinistra. Il sindaco Seri dice Ceriscioli, decida se vuole fare il presidente della regione Marche oppure l'ex sindaco di Pesaro. O si tiene conto di un territorio più ampio di quello pesarese o si rischia di fare errori inevitabili, dice il primo cittadino di Fano. Non si è mai fatto un confronto su tutti i siti, su elementi oggettivi, ma solo per titoli senza dati concreti. Questo è quello che in sintesi ha detto Massimo Seri. Un concetto, tra l'altro ribadito anche, soprattutto quando ha detto Ceriscioli, non deve fare l'ex sindaco di Pesaro, deve fare il presidente della regione, quindi deve guardare in grande. Lo ha detto, un concetto ribadito anche ieri sera nella diretta, primo cittadino trasmessa su Fano TV e che è in replica ancora in questi giorni. La regione rettifica, scelta limitata a Muraglio Fossosieiore. Il governatore sostiene che può riconoscere la pubblica utilità al progetto Inso anche dopo i tre mesi, ma la legge parla di termine perentorio. Contraddette anche le parole pronunciate in aula, secondo le quali con un accordo si opterebbe per un altro sito. Sempre sulla pagina di Fano del Corriere, tutte deserte le aste dei beni comunali. Restano invenduti 14 immobili. La Cecchetelli, l'assessore, non drammatizza, però dice il periodo è difficile, quindi era preventivato. Ora la trattativa diventa privata. Andiamo sull'altra pagina del Corriere Adriatico. Il giudice lascia Cordella in carcere. Oggi si decide il destino di altre due società dell'inchiesta. Concordato o fallimento? L'avvocato Cazzola intende ricorrere al tribunale del riesame. Parte di 6 milioni e 300 mila euro, forse è finito in un paradiso fiscale. E sopra invece tentato stupro, ma che mi ammiravano. Anche qui le parole per difendersi del 45enne accusato di molestie a 6 ragazzini alla stazione dei treni, convalidato l'arresto e poi mandato a Bitonto. Ancora sulle pagine del Corriere di Fano, agenti sventano una rapina, inseguita è fermata una moto con una targa falsa, sospetti sul conducente. E poi ancora dal quotidiano delle Marche, la politica con la vittoria a Mondolfo del nuovo sindaco, il 27enne Nicola Barbieri. Qui vedete nella foto, mentre festeggia, con Carlo Diotallevi. Ed è proprio Diotallevi di cui si parla oggi in questo articolo. Perché? Perché dice è una vittoria questa costruita in dieci anni. Diotallevi è l'ideatore, l'anima del gruppo che ha portato l'elezione di Barbieri. C'era voglia di novità, dice, i cittadini hanno compreso il nostro progetto, dandoci un'enorme fiducia. E poi, insomma, altre notizie che potrete trovare sulla pagina del Corriere di Fano e Valle del Cesano, mentre da Senigallia la raccolta dei rifiuti va ancora a rilento. Ramazzotti, dopo le critiche degli operatori, dice abbiamo rispettato il contratto, mentre la CGA dice va messo però un limite. Adesso il resto del carino per chiudere la rassegna stampa, la centropagina, la fotografia, la copertina è tutta per questi splendidi centenari. Sono sei, tre uomini, tre donne, tutti ospiti di Santa Colomba. Insieme fanno 601 anni e verranno festeggiati nella casa di riposo il prossimo 30 di giugno. Nelle pagine interne le andiamo a vedere subito. La bella notizia per tutti gli amanti della musica italiana, in particolare di Francesco De Gregori, De Gregori sarà per la prima volta a Fano, canterà nella città dove non ha mai suonato, non ha mai cantato. Una settimana di musica stellare, Star Wars, De Gregori noa. Una settimana di musica stellare, scrive il resto del carlino, staffetta di eventi sul palco di Piazza 20 Settembre. Si comincia con l'orchestra sinforica Rossini il 17 di luglio e i brani della saga di Lucas. Dunque appuntamenti musicali importanti per Fano, mentre scatti, parliamo di fotografia, scatti in coppia, centrale di fotografia, di scena il duo. Dopo il bastione San Gallo, la Kermess approda all'ex chiese di San Francesco e a San Pietro in Valle. Andiamo sull'altra pagina del resto del carlino. Vediamola subito. Un rappenatore incastrato dalla sua motocicletta, la polizia si insospettisce per la targa, scatta dunque l'inseguimento. È stato denunciato un 47enne napoletano, forse preparava un colpo, una rapina, forse. La tecnica consiste nel tampinare i rappresentanti di gioielli e a cui strappare poi le borse con dentro i preziosi. Poi c'è ancora cronaca, qui di spalla c'è la notizia di un 29enne che è finito nei guai, in sette dentro l'auto, scatta il controllo, dentro c'era un evaso. Poi, eccola qua la notizia del papà di Valentino Rossi che si è scontrato in auto in superstrada, l'incidente nel cantiere della superstrada. Il papà di Valentino è uscito illeso, ferito invece l'altro conducente. Ancora un altro incidente nel restringimento della strada dovuto al viadotto. Stiamo parlando del tratto dove tra l'altro qualche settimana fa purtroppo ha perso la vita un bambino di tre anni che era in macchina con la mamma. Graziano Rossi, il papà di Valentino, è rimasto coinvolto l'altra notte in un incidente lungo la Fano Grosseto. L'altezza del cantiere tra Sant'Ippolito e Fossombrone si è scontrato mentre era alla guida del suo fuoristrada DR con una lancia Y che procedeva in senso opposto. Alla guida della Y c'era un cinquantenne di Fossombrone. Poi accerchiano un pensionato al mercato, sono stati presi, sono quattro rumeni, uno di loro era ricercato ma il giudice non convalida a chiamare Carabinieri, è stato un ambulante che si è accorto del tentato furto. Erano partiti martedì mattina da Civitanova Marche per venire a Pesaro al mercato settimanale. Poi anche qui sul nuovo ospedale vedete la foto con il titolo Se riaccusa Ceriscioli fa il sindaco di Pesaro. Fosso sei ore invece resta una ipotesi. Poi c'è Muraglia per il Presidente, replica il Presidente al Movimento 5 Stelle. Poi infine la notizia del conte albergatore filantropo che dice e lancia questa iniziativa, tra l'altro anche nobile, bella, cioè di dare il suo ospitalità nel suo albergo a quattro stelle a Pesaro a coloro che sono rimasti vittima di ingiustizie oppure reclusi innocenti, poveri o famiglie finite nella miseria per la perdita del lavoro. Insomma, Alessandro Marcucci, questo signore che ha 72 anni e che è proprietario di sei alberghi, sei hotel tra i più belli di Pesaro e Urbino, ieri ha annunciato che il tempo delle chiacchiere è finito e adesso c'è soltanto da agire, da fare e speriamo che possa essere imitato anche da suoi altri colleghi, non solo albergatori, ma gente che comunque ha ancora qualche soldino in tasca. È tutto, grazie per aver seguito Occhio ai giornali, stasera c'è il telegiornale Occhio alla Notizia, vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento stasera. Grazie a tutti.